Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo alla ricostruzione del cavalcavia di Annone. I lavori, per un importo complessivo pari a quasi 2 milioni di euro, avranno una durata stimata di 340 giorni. Il nuovo sovrappasso sarà dunque pronto con tutta probabilità a inizio del 2019. La data inizialmente prevista dal Ministero delle Infrastrutture era il 30 ottobre 2018. Un ritardo non di peso da Anas, precisa lo stesso ente strade. Abbiamo avuto a disposizione dal Ministero, nello scorso mese di aprile, di avviare in qualità di soggetto attuatore la progettazione per la costruzione del nuovo cavalcavia, dice Anas. Attività che abbiamo portato a termine rispettando il cronoprogramma concordato con il MIT. La conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole il 29 settembre, con alcune prescrizioni che sono state accolte in sede di verifica del progetto, validato ed approvato il 21 novembre. Abbiamo mantenuto gli impegni assunti, dichiara il direttore operation e coordinamento territoriale di Anas, Ugo Di Bennardo, rispettando i tempi concordati con il Ministero delle Infrastrutture. La nuova opera risponderà alle necessità del territorio, ripristinando in sicurezza la viabilità in uno dei punti nevralgici della provincia di Lecco. L'impegno prioritario di Anas sarà ora far sì che la ditta che si aggiudicherà l'appalto rispetti anch'essa il cronoprogramma stabilito nel progetto. La nuova infrastruttura definita a via inferiore sarà costituita da un'unica campata di 44 metri, con impalcato in calcestruzzo armato, appoggiato su due travi laterali in acciaio di altezza fino a 3 metri nella parte centrale. Grazie a questa modalità costruttiva sarà possibile realizzare un nuovo cavalcavia che assicuri una luce libera tra l'intradosso del ponte e il piano viabile della sottostante statale, ben maggiore della preesistente e pienamente conforme alle norme, senza richiedere la realizzazione di una pila centrale nello sparti traffico e quindi riducendo al minimo l'interferenza con la circolazione stradale. La sezione del nuovo ponte prevede inoltre la realizzazione di percorsi separati per ciclisti e pedoni protetti da idonee barriere. L'appalto verrà affidato con il criterio del massimo ribasso. Le offerte digitali corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire sul portale acquisti di Anas entro il 9 gennaio. Le buste virtuali saranno aperte l'11 gennaio.